La delocalizzazione e l'interramento della centrale elettrica nel quartiere Cona di Teramo costituiscono l'unico progetto finanziato dal Masterplan nel 2017, già partito e in via di completamento. Due milioni di euro anticipati dal comune di Teramo per abbattere la vecchia centrale, acquistare i terreni al di là della via Cona, dove interrare i cavi, per poi bonificare l'area liberata, che sarà trasformata in una grande piazza per il quartiere. Oggi, giustamente, i cittadini, vedendo i lavori che vanno sempre avanti e che ovviamente cominciano a prendere una consistenza, hanno chiesto di poter avere maggiori delucidiazioni. Abbiamo cercato di dare le giuste spiegazioni. Tra i finanziamenti del Masterplan, l'unico finanziamento che è stato dato come stazione appartante al Comunità è proprio la delocalizzazione della centrale Enel, che è l'unica attività che è in corso e quasi in via di definizione e quasi di conclusione. Per cui ritenevamo necessario non solo informare ovviamente i cittadini della Cona, ma dall'altra parte volevamo informare tutta la città sulla situazione, sullo stato dell'arte, sulle problematiche, su, diciamo, le scelte che sono state prese. In questi giorni, però, qualche preoccupazione è stata espressa dai residenti del quartiere Cona per via di una modifica al percorso dei cavi previsto dal progetto iniziale di interramento, che prevedeva l'eliminazione di tutti i tralicci. Due di questi saranno sì spostati dal luogo attuale, ma riposizionati temporaneamente sui terreni antistanti, almeno per un anno. Il tempo di ottenere, assicura l'amministrazione comunale, le definitive autorizzazioni dal Ministero della Transizione Ecologica. Nelle prossime settimane ovviamente riconvocheremo per poter dare, diciamo, le giuste risposte alle loro domande. Dall'altra parte c'è una problematica connessa, realizzazione del progetto che praticamente vede Terna promuovere un progetto alternativo temporaneo che potrebbe in qualche modo portare alla luce, potrebbe creare qualche piccolo disagio temporaneo, ma che comunque Terna ha già messo nero su bianco che eventuali tralicci che dovessero nascere nel periodo in cui, cioè tra quando si stacca la vecchia centrale e si va ad attivare la nuova centrale, rimuoverà a spese ovviamente di Terna e non con uno spesa da parte dei cittadini o di chi che sia.